Siria sotto attacco, Aleppo risponde con i missili della carità, spiega padre Ibrahim al-Sabag, con lui due sacerdoti di Rapallo e due laici che dicono tra le macerie fioriscono tanti esempi di speranza. Lunedì sopralluoga Casarza Ligure dell'assessore Giampedrone, la frana caduta su un'ala della fabbrica IML blocca la produzione dell'azienda, i sindacati chiedono tempi rapidi di intervento. La sfida dinanzi alla quale pone la recente legge sul testamento biologico è quello di dare al tempo della malattia un significato, l'analisi condotta più voci nel corso di un convegno a Chiavari. Esercitazione del Radio Club Levante a Chiavari per gli alunni dell'Istituto in Memoria della Patria, svolta una simulazione antincendio nell'ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro. Buongiorno a tutti, ben arrivati al TG13. In apertura oggi ci occupiamo di una notizia che trova il primo piano su tutti i quotidiani e i notiziari nazionali, ovvero l'attacco dell'America contro la Siria. Venuto nella notte alcuni missili avrebbero colpito presunti siti per armi chimiche con gli Stati Uniti, anche la Francia e l'Inghilterra, un intervento militare che avrebbe suscitato la reazione di Iran e Russia. Hanno trascorso la notte senza problemi i due preti di Rapallo, Don Giuseppe Coulomma e Don Stefano Curotto, che in questi giorni si trovano insieme a due laici ad Aleppo per contraccambiare la visita a padre Ibrahim al-Sabag. Il gruppo sta vivendo da vicino il dramma siriano accompagnati dal religioso. Con il primo servizio ascoltiamo proprio le parole di padre Ibrahim. I missili di America, Francia ed Inghilterra li fermiamo con i missili della carità. Arriva questa mattina sul Presto l'audio di padre Ibrahim al-Sabag da Aleppo, la martoriata città siriana a nord di Homs. Nel suo messaggio il frate spiega che il male ha la sua forza, è vero, ma sarà il bene a vincere e questo è già possibile grazie alla carità e all'aiuto di molti. I nostri interventi non mancano a favore di tutta la gente, però è tutto questo grazie a tanti amici, a tanti sacerdoti, vescovi e anche persone di buona volontà che pensano a noi e che hanno fatto anche i sacrifici durante la quaresima per mandarci qualcosa del loro anche necessario per colmare i bisogni che stanno qua. Padre Ibrahim non dimentica di ringraziare la diocesi di Chiavari che da tempo sostiene Aleppo, non soltanto con l'ascolto ma anche con l'invio delle offerte raccolte durante la Domenica delle Palme, soldi che serviranno a sostenere i 52 progetti avviati dai frati francescani. La gente ancora ha bisogno di assistenza per l'emergenza che c'è, di bisogni primari, di alimentari ma anche di cura sanitaria e dall'altra parte ha bisogno sempre di assistenza per i progetti di ricostruzione del lavoro con microeconomia e anche ricostruzione delle case e lo stesso anche per la ricostruzione più importante quella dell'uomo che è stato distrutto da tutti i punti di vista durante questi anni. Nonostante la tristezza di questi giorni, conclude Religioso, i padri continuano a sostenere la popolazione con le armi dell'amore e della vicinanza. Noi continuiamo gli interventi di altri tipi di missili, quelli della carità, quella dell'accompagnamento alle persone e alle famiglie. E il lavoro incessante di padre Ibrahim e dei suoi collaboratori porta speranza alla gente di Aleppo. A raccontarlo è Don Beppe Couloma e Don Stefano Curotto che testimoniano come tra le mille difficoltà che la popolazione vive si possa incontrare il vero significato della risurrezione di Gesù. Ascoltiamo le loro impressioni con le foto che ci sono state inviate da Aleppo. Bastano poche ore ad Aleppo, a Don Giuseppe Couloma e Don Stefano Curotto per gettare occhi e cuore sul dramma siriano e farsi trascinare in un turbinio di emozioni e domande. L'uso di armi chimiche sarebbe un pretesto, l'ultimo dei tanti, per poter intervenire militarmente. Lo scrivono nella chat del viaggio, aperta su WhatsApp e seguita da numerosi fedeli in diocesi. I cristiani sono in grande difficoltà, proseguono, eppure in mezzo a morti e macerie fiorisce la speranza che si incontra negli innumerevoli progetti di padre Ibrahim e nel volto dei bambini. Sono aiutati per esempio in una scuola 150 ragazzi a recuperare le materie insufficienti, a superare tante difficoltà che questo periodo di guerra ha creato loro. Aiutano le altre comunità, le altre parrocchie a realizzare luoghi dove poter portare avanti le attività di catechismo, di oratorio, di vita comunitaria. Aiutano le giovani coppie, i fidanzati, perché la sfida qui è non andare via da questo luogo, ma poter stare e portare speranza. Anche noi stiamo imparando da questa situazione a capire cosa vuol dire che Gesù è risorto, vivere anche in situazioni difficili con la speranza che è possibile una vita buona. Quante scelte sono fatte sulle vite delle persone che subiscono dolori e ingiustizie, scrive Don Stefano Curotto. Eppure dentro queste pagine nere si incontrano luci di umanità che lottano e custodiscono speranza. Gli sguardi dei bambini, gli sguardi di certi adulti animati dalla fede sono per noi una grande ricchezza, un grande rimando a credere, a impegnarci. Davvero poi sono tante le domande che ci nascono nel cuore pensando a queste politiche internazionali che mettono poi repentaglio la gente, la popolazione. E quindi ci portiamo nel cuore questa perplessità su ciò che avviene a volte a tavolino, ma le cui conseguenze poi purtroppo piovono come i missili sulla testa della gente, distruggendo le loro case, le loro famiglie, il loro futuro. Torniamo in diocesi e ci occupiamo della frana che si è distaccata ieri da un versante in località Bargonasco a Casarza Ligure. Sono già iniziati i primi interventi di messa in sicurezza dell'area. Interessata dallo smottamento franoso, l'azienda EML, danneggiata dal cedimento di questa vasta porzione di versante, ha avviato i primi lavori per ripristinare la sicurezza e le dotazioni antincendio. Lunedì ha annunciato il sindaco Giovanni Stagnaro, verrà effettuato un sopralluogo con l'assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. D'ancanto loro i rappresentanti sindacali chiedono tempi rapidi di intervento per riprendere al più presto la produzione. Partiamo da un dato di fatto. Nessuno si è fatto male, ma poteva accadere qualcosa di molto più grave, visto il luogo, l'ora in cui si è staccata la frana. Intanto che è successo prima dell'inizio del turno di lavoro, una mezz'oretta prima, questo e nella disgrazia è stato molto importante perché ha evitato veramente una grossa tragedia. Nel frattempo in quel barracone lì c'erano due lavoratori, i quali nel primo momento credevano che fosse vento, poi dopo le prime avvisaglie delle pietre piccole che sono venuti sono scappati velocemente anche per fortuna e in quel momento lì è crollato il capanone e si è abbattuto al giù la montagna e per fortuna che non c'è veramente nessun ferito. Questa è una cosa importante, la più importante. La fabbrica al momento è chiusa, com'è il morale tra i 63 lavoratori e poi ci sono anche quelli dell'indotto? Il morale logicamente non è alle stelle, il problema è che la fabbrica si stava recuperando un pochino da un po' di crisi e c'era un attimo di lavoro in questo momento. Che cosa chiedete affinché comunque vengano tutelati i lavoratori? Dunque noi intanto ci siamo attivati insieme all'azienda per stabilire di vederci già la prossima settimana per fare un accordo per poter utilizzare gli ammortizzatori sociali, quindi la cassa ordinaria per eventi straordinari, ovviamente non basta, bisogna fare, lo chiediamo ovviamente a regione, azienda e comune insieme a noi un tavolo di confronto e approfondimento dove si definiscono tempi e modi per agire rapidissimamente studiando delle soluzioni di emergenza che devono permettere di evadere gli ordini che ci sono perché ovviamente il mercato è molto aggressivo, non aspetta, non abbiamo tempo da perdere, dobbiamo riuscire a trovare le soluzioni per andare avanti. Sempre lunedì l'assessore regionale alla protezione civile Gianpedrone effettuerà un sopralluogo anche lungo la provinciale 42 di Romaggi nei pressi della frana che blocca la strada da diverse settimane. Con lui saranno presenti i sindaci dei comuni interessati, Mezzanego e San Colombano-Certenoli e il consigliere delegato alla viabilità per la città metropolitana di Genova, Franco Senarega. Un complicato intervento di soccorso è stato realizzato ieri sera dalla squadra notturna dei vigili del fuoco di Genova Est a Scagnelli, una frazione del comune di Lumarzo. Una donna, per causa ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della propria auto finendo fuori strada e ribaltandosi. Appena giunti sul posto i pompieri hanno stabilizzato il mezzo affinché non scivolasse ulteriormente. Successivamente hanno iniziato a lavorare per liberare l'occupante il veicolo. L'intervento è stato complicato dal terreno reso viscido dalle piogge che ha obbligato i pompieri ad imbragarsi per poter operare. Una volta aperta la porta dell'auto si è proceduta ad adagiare la conducente sulla barella spinale. La donna è stata poi condotta in ambulanza dopo aver ricevuto le prime cure. L'intervento è terminato intorno alle 23. La legge 129 sul cosiddetto testamento biologico è stata al centro di un incontro promosso dal Forum delle Associazioni Familiari del Tiguglio e dall'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi. Il testo normativo lascia molti dubbi ma apre anche ad una deriva pericolosa, quella di poter disporre di un bene indisponibile qual è la vita. L'analisi nel salone di casa Marchesani a Chiaveri è stata condotta da un medico geriatra, da un avvocato e da un religioso che presta servizio negli ospedali. Qual è la sfida a cui sono chiamati i cristiani dinanzi alla malattia, alla sofferenza e anche alla morte? Io credo appunto che benvengano le trattazioni delle varie questioni sotto un profilo etico, sotto un profilo giuridico perché comunque chiariscono le situazioni. Ma poi il compito del cristiano è quello di affrontare appunto con fede quelle che sono le situazioni umane, compresa quella della malattia, sapendo che c'è un percorso spirituale importante all'interno dell'avenienza, dell'accadimento della malattia. C'è a suo avviso un pendio scivoloso anche in questa normativa? Ma diciamo che dobbiamo anche un po' guardare agli stati nei quali questo tipo di normative sono già state adottate. in quegli stati che inizialmente hanno avviato questa regolamentazione per tutelare il fine vita, in realtà la normativa è stata spinta fino a consentire la richiesta di conclusione della vita anche in situazioni che non sono terminali. È una cultura che non sappia riconoscere che la vita umana è degna di essere vissuta e quindi lo Stato, la comunità, la società non può dire a nessuno la tua vita, non è degna di essere vissuta, deve preoccupare. Di fronte a un paziente che le chiede vorrei morire con dignità, quale risposta si sente di poter dare? Ci proveremo, ci proveremo perché sarà farsi carico delle sue esigenze, delle sue aspettative spiegandogli nel momento quello che può essere il percorso, ma levandolo dal dolore e sicuramente in questa etica di compassione avere una partecipazione al lato emotivo che va sempre sicuramente coltivato. Anche in questo frangente, anche in quei frangenti bisogna far sì che il paziente percepisca di continuare ad avere significato per qualcuno e soprattutto in una logica di affetto e di amore. La ripresa integrale del convegno sul testamento biologico registrata ieri sera in casa Marchesani a Chiavari sarà proposta questa sera alle 21.10 su Telepace 1 al canale 15. Al santuario di Nossa Signora delle Grazie a Chiavari sarà festeggiata domani la festa della Madonna delle Grazie, una ricorrenza tanto cara ai fedeli del santuario che si ritroveranno domani mattina alle 11.30 insieme al parroco Don Stefano Mazzini per la celebrazione dell'Eucaristia. Al termine della funzione religiosa ci sarà un momento di festa nel porticato della Chiesa. Proseguono gli appuntamenti organizzati dalla Diocesi nell'ambito degli itinerari storico-artistici e religiosi del territorio. Quest'anno il filo conduttore è la devozione a San Michele Arcangelo nel Tiguglio sulle tracce dei Longobardi. Domani alle 15 verrà proposta la visita alla chiesa di San Michele di Casarza Ligure in Val Petronio. Guideranno la visita i partecipanti l'architetto Luciano Maggi ed Elena Garibaldi. Esercitazione dei volontari del Radio Club Levante questa mattina in colmata mare a Chiavari. Erano presenti gli alunni maturandi dell'Istituto in memoria dai morti per la patria nell'ambito di un progetto di alternanza scuola e lavoro. Gli alunni saranno infatti riconosciuti dei crediti formativi. Abbiamo voluto fortemente questa esercitazione che sia stata fatta con i maturandi dell'Istituto Geometri e Ragionieri perché saranno i futuri volontari. Io mi auguro che saranno i futuri 42 ragazzi, le presenze sono state 42. Devo dire che mi hanno sorpreso. Mi hanno sorpreso perché sono stati molto attenti, molto precisi, hanno ascoltato i nostri consigli e li ho visti veramente coinvolti. Si chiude il periodo delle piogge, si sta per aprire il periodo degli incendi. In questo caso la preparazione rimane sempre molto alta. Sì, cerchiamo di utilizzare questi tempi, tra virgolette, morti per cercare di addestrare noi stessi anche perché stamattina l'incontro era per i ragazzi ma è stato il pretesto per esercitare noi stessi, utilizzare il nuovo mezzo che è alle mie spalle e cercare di prendere di vestichezza tutti quanti con le attrezzature. La squadra standard è formata da quattro operatori, un caposquadra, salive e c'era molto vento. Siamo vestiti così quando siamo sull'incendio. Abbiamo visto come funzionano le radio, che quando ci sono ad esempio alluvioni, terremoti sono l'unico mezzo di comunicazione che servono per aiutare comunque i cittadini che si trovano in pericolo e poi abbiamo visto una simulazione di un incendio, come si spegne, come si vestono i volontari eccetera. Cosa ti ha colpito particolarmente? Mi ha colpito il fatto che comunque sono tutti volontari e che lo fanno anche se hanno una vita, un lavoro così, si impegnano comunque ad aiutare il nostro territorio. Potresti farci un pensiero nel futuro a fare volontariato? Sì, volentieri, ci stavo già pensando. E per i ragazzi della Scuola Chiavarese il prossimo appuntamento sarà sabato 12 maggio al Parco Tigullo di Lavagna. Sarà stimolato un intervento di svuotamento di un locale allagato. Nell'ambito della rassegna Primavera Concerti promossa dalla Società Filarmonica di Chiavari, oggi pomeriggio alle 17 all'auditorio San Francesco si esibiranno gli allievi degli strumenti ad arco del Conservatorio Paganini di Genova con un omaggio a Rossini. Nell'autore saranno eseguiti la sonata A4 numero 1 in Sol Maggiore e la sonata A4 numero 2 in La Maggiore. Il concerto si aprirà con il Quartetto Infamaggiore di Mozart. Con una serata di gala l'Hotel dei Castelli di Sessri Levante sarà consegnato questa sera all'Escolappio d'Oro 2017. Ricordiamo i vincitori di questa edizione, la dottoressa pediatra Caterina Caffarena, il caposala del reparto di cardiologia Ivo Pattaro e un premio speciale istituito quest'anno per il cappellano dell'ospedale di Lavagna, Don Mario Cagna. La cerimonia inizierà alle 20. Prima di sfogliare i quotidiani diamo uno sguardo ai titoli dei quotidiani online. Naturalmente la notizia dell'attacco in Siria non è ancora, non è sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola perché è avvenuto nella notte. La stampa titola Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna lanciano l'attacco alla Siria, evitate le basi russe, condanna di Putin, ONU intervenga. Il Corriere della Sera, Siria, attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, Putin condanna ferma, l'ONU intervenga, Parigi, Mosca sapeva del raid, ora soluzione politica. Gentiloni no all'Escalescio. E poi ancora su Repubblica, l'attacco alla Siria, colpito centro di ricerca, evitate le basi russe, Damasco, abbiamo reagito, danni limitati, Salvini, Pazzesco, ma Berlusconi a volte meglio tacere. Il titolo che troviamo sulla prima pagina del quotidiano online avvenire, Siria, Trump usa i missili, con lui Parigi e Londra. L'attacco missilistico è partito alle 3, ora italiano. Gli altri titoli sui quotidiani nella rassegna stampa. Prima pagina di avvenire, serve un governo. La scelta in 10 giorni, Mattarella preme e pensa ad un esecutivo del presidente. Concluso il secondo giro di consultazioni, il capo dello Stato attenderà ancora e poi deciderà tra Salvini e Di Maio, confronto decisivo. Il bambino Gesù, pronti ad accogliere Alfie, il bambino inglese, la presidente dell'Enoch sul bimbo ammalato e non solo Alfie naturalmente. Derivati tossici, così si possono disinnescare con autotutela, arbitrati e intese l'approfondimento sulla situazione dei comuni. All'interno del quotidiano cattolico, come sapete, nella notte l'America ha attaccato la Siria, Mosca si difende. L'attacco con il gas è un piano degli occidentali. Lavrov con i raid rischiate un'ondata di profughi. Intanto il presidente americano consolida la coalizione, ottenendo l'appoggio di Macron in Francia e di May in Inghilterra. Otto per mille, una firma che si fa a servizio. Al centro i progetti di carità in Italia e nel mondo, ma anche online una mappa di 16.000 opere. Al via in televisione gli spot TV ha collaborato. Anche Telepacci di Chiavari. Ora la prima pagina del secolo XIX, verso il governo del presidente. Mattarella ferma, uscire dallo stallo, 5 nomi in lizza per l'incarico. A giorni la scelta del Quirinale. E adesso la pagina del Levante. Ore 7, la montagna frana sulla fabbrica. A Casarza Ligure, tragedia sfiorata ieri mattina alla IML. Nessun ferito, lavorazioni però ferme. Il versante indebolito dalle piogge ha ceduto di schianto, investendo in pieno un capannone. Vogliamo ripartire appena possibile, a dirlo il direttore Bergami. Ammortizzatori sociali e messi in sicurezza serve aiuto. All'interno, Sesti Levante, basta strumentalizzazioni sull'acqua. Il sindaco al contrattacco. L'ASL garantisce che ciò che esce dai rubinetti è a posto. E poi però, a fondo pagina, non è vero che è tutto ok. Più controlli sui pozzi. Al grande albergo, il convegno tecnico con interventi di Elter, Riccobone e Miglio. E concludiamo con la salute. Influenza ai virus costringono a letto 10.000 Liguri. Ultimi colpi di coda per l'epidemia stagionale, ma sindromi simili continuano di imperversare. La cronaca. Un commerciante di Rapallo con precedenti è stato trovato in possesso di due grammi di eroina durante un controllo da parte dei carabinieri. La droga è stata sequestrata. L'uomo è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ma abbiamo cronaca anche dalla redazione con tutti gli aggiornamenti. Per noi, Maurizio Garreffa. Sì, grazie Cristina. Un saluto a tutti. Segnaliamo che un incidente si è verificato intorno alle 12.30 a San Michele di Pagana, in comune di Rapallo, sul posto il 118 e l'elicottero dei vigili del fuoco. Per il momento non si conoscono i dettagli di quanto accaduto, in quanto l'intervento è ancora in corso. Secondo le prime indiscrizioni, si tratterebbe di uno sconto tra un'auto e una moto, forse uno scooter. Ci sono disagi al traffico lungo la Pagana e in zona viene segnalato anche un altro intervento. Dunque, prestare la massima attenzione. A te Cristina. Grazie. Ora passiamo allo sport. Virtus Entella alla prova del 9. Oggi pomeriggio, nell'ennesimo scontro salvezza, tra le mura domestiche i chiavaresi ospiteranno l'Avellino. Fischio d'inizio alle 15.00. Tra i giocatori di Mister Eietti c'è voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta di Cesena. Sentiamo le dichiarazioni del Mister prima della partita. Entriamo nella fase finale in cui tutto si decide. Di solito le ultime 7-8 partite del campionato e l'ultimo mese e mezzo è quello decisivo. Lo stiamo vedendo. C'è il grande bagarre sia in cima che in fondo. Noi sappiamo che la partita di domani è una partita importantissima. In quest'ultimo periodo, tolta la partita scorsa, abbiamo fatto anche bene a livello di prestazione. È normale che poi, oltre alle prestazioni, servono i punti. E domani, così come nelle prossime gare, varranno doppio. Quindi dovremo affrontare la partita con la giusta concentrazione e la giusta cattiveria. Ma c'è voglia da parte di tutti di tornare a giocare dopo una settimana un po' difficile, un po' pesante. Ed è l'occasione migliore. Domani arriva una partita difficile, ma che sicuramente è alla nostra portata e dobbiamo cercare di sfruttarla, far valere il fattore campo. Come hai visto i ragazzi in settimana? Hai visto comunque voglia di riscatto? Ma è stata una settimana crescendo. All'inizio c'erano le scorie per la partita di Cesena, in cui sicuramente mandarle via non è stato semplice. Perché poi, quando perdi così, non è un bene. Però è vero anche che in un campionato di Serie B, ho detto ai ragazzi, e anche in un campionato di Serie B, ma in genere, ogni tanto delle prestazioni brutte, storte, in cui non riesce niente, capita a tutti. E quindi abbiamo cercato di cancellarla. Piano piano abbiamo, a parte i primi giorni, metabolizzato la sconfitta. Poi è normale che le risposte le dovrà dare il campo domani, in un match in cui, come ho detto, se riuscissimo a portare a casa i tre punti, ci riconcentirebbe di riagganciare il gruppetto. Ma, come ho detto, sarà da bagarre fino alla fine. C'è da rimanere concentrati, sapere che si può sbagliare poco o niente. Questo lo sappiamo, perché comunque, per quella che riguarda la nostra classifica, le possibilità di sbagliare sono ridotte a zero. Però lo sappiamo e, di conseguenza, agiremo per cercare di ottenere il massimo. E allora, in bocca al lupo alla Virtus Entella, i risultati nel telegiornale serale, in onda questa sera, 19.15, 20.30, 22.45, con Tigulio Oggi. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica. Grazie a tutti.